Musica Ciao a tutti ragazzi, sono Icane e benvenuti in questo nuovo episodio di Untarned Italia Bellissimo ragazzi, questo gioco è stupendo Se vi ricordate l'altra volta, eravamo formati su questo posto, se non mi sbaglio Però siccome avevamo però già un po' di fame, avevamo già la vita tolta, non ricordo adesso Però se volete qualcosa di nuovo, non ho barato ma semplicemente si è aggiornato il gioco Quindi si è aggiornata tutta la vita e robe varie La 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 la, allora, dovevo fare l'inserto ma Eeeh 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 Oggi o la notte Tira Tira AAAAAH Eeeh 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 A Eeeh Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Eccolo. Qui non c'è niente. Oh! Un flash. Illuminiamo il centro. Una torta così. Vedete meglio. Finalmente. Uh che bella la luce. Bianca. E' gialla. Un morphine. Un morphine. Che non so cosa serve. Un rug. Che serve per curarsi. Quello usiamo. La piccola se la buttiamo. Tanto non mi serve. Cremunizioni per trovarla. Ci vedo molto. Chi è? Nessuno. Vitamina me la bevo tanto. Però io non mi serve. Fin quando mi trovo un pacco. Potato soup. Chi è? Eccoti. Patatine. 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 Patatine mi sembra che sono quelle così. E siamo pure. Eeeh. Un travel pack. Quindi ci vediamo questa. Questa è la tonica di benzina. Uh. Questo mi sembra. Allora. Eeeh. Patatine. Patatine. Eeeh. Per trovare la mano. Siamo belli. Quindi. Eeeh. La madonna. Quando è gas. Kain. Che sono tonica di benzina. Quindi l'unica cosa che ci manca. Adesso. Trovare un altro. Patatine. Di benzina. Un altro. Alto. Ecco questa. Il frigo. Il frigo. Dove. Entriamo qui dentro. Esploriamo. Esploriamo. Civilian Bullets. Che non c'è ancora. Bene. 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 Come ci usano. Quindi. Mi dite per favore. Come ci usano. Quei civilian Bullets. Che io non ho ancora capito. Ok. Non siamo più nudi. Ha subito questo. Il nostro primo pericolo. Deve aumentare la skill. Sì. La skill. La skill. Non voglio morire. Quindi. Survival. Warrior. Warrior. Enduring. La macchina. Non voglio morire a spasso. Ragazzi. Ora con la macchina vuol dire che possiamo proseguire per l'avventura. Possiamo andare dove vogliamo. In quanto la macchina si dura qui. La macchina è buona e piena. Mangiamoci una barretta di cioccolato. Ehm. Possiamo. La macchina. Ehm. Vediamo qui che c'è. Cioccolato bar. Granula bar. Chef pant. Che li pucia. Ui. Questo è scaduto e non me lo prendo. Coca Cola. E me lo prendo. Chef pant. Canna e jam. Che non so che cavolo è. Ma me lo prendo perché c'è il cibo. E stiamo. Ah no. Non siamo così pieni. Mettiamo la torta così per dire. Vedete. Non so se non vedete un gran che. C'è il cibo. Molto il bot lovate. Molto il bot lovate. È scaduto. Non lo prendiamo. E lo. Ok. Non c'è niente. C'è niente. C'è niente. Ok. Non c'è niente. Possiamo partire per l'avventura. Io direi che. Cioè. Direi mo. Mo. Prodiamo a andare in là. Via via via. Andiamo per il cibo. Uff. C'è culo. Ah. C'è culo. 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 una shoot magazine per la cucciola un piccone usi la pompa che è grande la crossbow 3 e una zombie suca aia ho poca vita un altro shoot magazine un motel un motel un fucile faccio questa roba voglio vendere vendere vabbè ehm beh ragazzi che dici ehm e niente ragazzi voglio mettere un video che ti ha piaciuto sicuro che è la feria del tutto rilascia niente da ikade è tutto ciao a tutti speriamo che nel prossimo episodio riesco a campare a vivere ciao 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 Ciao